Salve a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video, pensavate che mi fosti scambiato eh, che questo futuro non ho solo quello forte. Oggi come avrete visto dalla preview, andrò a registrare finalmente dopo un mese di ritardo circa la felitenza per i staccati per diciare. In realtà stavo per iniziare le riprese, stavo solo aspettando un po' di prodaggio per fare ciò che volevo fare. Ho scelto tra i commenti di cantare la mia parodia in pubblico nella mia città. Ci vuole coraggio. Quando stavo per iniziare a registrare, mi arrivano da YouTube. E' il nomeato Bob, è il mio ispirante. Mi ha commentato nel video una penitenza da farmi fare. L'email c'era scritto, passano le ore della notte in una casa abbandonata con solo una doccia delle telecane. Non so voi, ma a me questa roba è meglio che sai. Io accetto la sfida e vediamo se riuscirò a vincere. Allora vado a prepararvi e ci si vede, non so, adesso. E papà neo! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.